Il mio obiettivo è quello di analizzare costi e benefici di tutte le opere e quelle che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere concluse, soprattutto quelle già iniziate. Quello che invece nei rapporti costi e benefici non sarà a vantaggio dovremo analizzare nel dettaglio e valutare come agire, sempre all'interesse dei cittadini. Quindi una cosa per volta, nel miglior modo possibile e penso che in poche settimane inizieremo a dare le prime risposte. Sul contratto di governo è indicata la rivalutazione di questo progetto e insieme anche alla Lega lo rivaluteremo, però carte alla mano, conti alla mano, valutazioni giuridiche e tecnico-scientifiche. Mi sto insediando in questi giorni, sto creando la squadra. Fondamentale è trovare le risorse migliori per il Paese, sia dal punto di vista della fiducia che della competenza ovviamente.